Dobbiamo aspettare un evento diffuso, un evento che ha tenuto conto della situazione economica complessiva, un evento quindi sostenibile ma anche molto partecipato grazie al lavoro svolto dagli uffici, dall'assessorato di riferimento e anche da Propositivo che ci ha dato una mano tutti i DJ senesi sono stati attenzionati e saranno presenti fisicamente su piazza per così dire non solo su piazza del campo ovviamente perché avete visto piazza San Giovanni, piazza del mercato ci sarà anche un concerto, quindi si parla dal tramonto all'alba, ci sarà anche un concerto proprio al palazzo comunale per una violinista che è un'allieva di Salvatore Accardo e quindi diciamo che abbiamo dato un'offerta ai cittadini di poter scegliere quale tipo di musica piace di più quale tipo di sensibilità ognuno di loro ha e nello stesso tempo per cercare di animare in un momento che certamente è stato un momento anche complesso ma che noi speriamo invece alla fine dell'anno sia anche l'inizio di un nuovo anno diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi periodi e quindi in questo senso una molteplicità di offerte, una molteplicità di occasioni una città in musica da tutte le parti, in tutti i luoghi e quindi come stavamo dicendo tutti insieme appassionatamente speriamo di abbracciarci, di farci gli auguri e di essere ancora una volta la città più divertente, più solidale e più esplosiva, in senso buono del termine, che ci meritiamo. Grazie Grazie